Emilia e Sebastiano hanno ricordato la sua dolcezza come come nonna, quindi non dirò nient'altro. Solo per dire come ultima cosa che nelle ultime settimane e mesi, anche quando è stato malissimo, papà ha sempre cercato appunto, far rabbiosamente e furiosamente, con l'ultima gente di lavorare al suo nuovo film Il canto delle mie cose e quindi il suo desiderio più grande fino all'ultimo momento è stato quello di poter dire due parole, motore, passione. Grazie a tutti. Grazie.